Ciao ragazzi, io sono Luigi e vi presento il mio amico Mario! Ehi, sono Mario, ciao ragazzi! Oh, però vi ricordate che prima loro cosa ho promesso di portarvi a voi? Bing bing, ecco arriva! Mario, portami bing bing! Ok! Ecco, la porta! Mamma mia, che scatola pesante! Però poi io dai! Tu hai scurriciato! No, chi ha scurriciato ragazzi? No, no io, ho scurriciato Luigi! Luigi, hai scurriciato! Mamma mia, non ti vergogni! No, io non mi vergogno, io ho fatto, ho fatto, ho trovato troppo peso, ho fatto... Eccoli, i nostri personaggi vanno a riposare, Luigi vuoi riposare? Sì! Allora, lì c'è un divanetto, vattene! Mario è andato? No, Luigi è andato! Mario, tu vuoi dormire? Eh sì! E noi vi presentiamo questo gioco, Bing Surprise House! Sì, si traduce da inglese che è casa di sorpresi di Bing, sì! Guarda, puoi sentire un suono! In inglese! Sì sì, aspetta! Guardate ragazzi cosa c'è qui! Prima che c'è la finestra e c'è qualcosa che si apre, la dobbiamo scoprire! Dopo c'è una panda, o chi è questa? Non so, panda, gatto, buu buu buu! Scopriamo che si muove! È un gatto! Dopo c'è la porta che si apre e secondo me pure c'è anche il citofono che fa... Oh, è il nostro amico Bing! Bing, eccolo qua! Bravo! Vale, hai schiacciato qualcosa! C'è un altro Bing 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 Bing! E qui guardate bambini, qui ci sono altri giocatori che potete trovare sempre di questa collezione! Un albero di Bing Bing, questo è un dondolo, buu, non lo so! C'è una panda con skateboard! C'è Bing Bing e Flip, Flop Flip! Ecco ragazzi, ecco la nostra casetta di Bing Bing! Ah, ecco il gatto, pip 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 pip! Io non vedo ora di tirarlo via! Sì, allice, tiriamo via! TIRIAMO VIA! TIRIAMO VIA! Ok, io inizio! Wow, si gira pure questa casetta! Guardate bambini come si gira! E la scatola! La scatola non serve! Cosa facciamo noi sempre con le scatole ragazzi? No! Ecco questa facciamo! Qua Alex, Alex, non si diverte così! Non si sente qualcosa strano, guarda che casa! È casa, mezza casa, mezza casa! Allora, ragazzi, dobbiamo iniziare a scoprire cosa c'è! Prima era questa pulsantina qua! Alex, prova a fare cosa si fa! Chiudi? 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 Apri! Wow, avete visto? Alex ancora non si sa cosa si sente di mei uvedu! E guarda questo! Guarda questo, guarda! No, aspetta! Pa, pa, pa! Una panda! Panda! Chiudi? Apri! Ecco ragazzi! Alex, è pronto? Dai, proviamo! C'è panda! Panda! Non c'è panda! Panda! Non c'è panda! C'è panda! Non c'è panda! C'è panda! Non c'è panda! C'è panda! Non c'è panda! Non c'è panda! C'è panda! Alex, finita con panda! Adesso abbiamo un altro portolo! una porta e si Alex dobbiamo scoprire cosa c'è qua secondo te cosa c'è cosa c'è un fratello scopriamo che cosa Alex un formica una formica un amico di di canile però non so come si chiama chiudiamo apriamo chiudiamo apriamo chiudiamo apriamo chiudiamo e apriamo ecco chiudiamo sì abbiamo chiuso abbiamo ecco questo è tutto qua io qualcosa ho schiacciato ragazzi c'è un'altra cosa Alex adesso tocca a te guardate qua cosa fa lui guardate dai Alex fai te che canile divertente cosa c'è un altro in questa casetta Alex non sai qui abbiamo fatto tutto qui abbiamo fatto tutto con Gettino abbiamo fatto abbiamo chiesto la panga questo come si apre così questo apriamo finito ragazzi è finito tutto non c'è più niente Mario Luigi Mario ecco ragazzi avete visto questo è stato un gioco bing caniglio bing ciale oh no scusa come si chiama il Mario super mario super super mario super super mario il nostro amico bing bing ragazzi vi è piaciuto il video mettete tanti 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 like quindi c'è chiama bene qui ciao 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 ragazzi sono io papà di Alex è superale ragazzi oggi vi presentiamo una scatola di PJ Masks che cos'è? Biberone? Sì, apriamo, vediamo cosa c'è, apri una tavola lì, abbiamo piena scatola ecco abbiamo una piena scatola, oh quanti sono, abbiamo una piena scatola, piena piena più di cento pezzi, adesso ci divertiamo con i dolcetti, sì Ale? Sì, tu hai preso due, una mia guardate i bambini, avete visto? Quanti abbiamo? Proprio il tavolo, allora Alex, cerchiamo? Sì, fai tu, poi scelto, anche io una scelto Alex, apri te una, apri, apri, scopri, scopriamo cosa c'è dentro, cosa c'è dentro, Lucio, fai, faccio io Sì, grazie, oh, rotondita Alex, no sto scherzando, ecco la, oh chi è? Gatt boy, è un gatt boy, esatto, avete visto, è un gatt boy, oh, buon gatto, guardate bambini, guardate bambini cosa faccio io adesso proprio un altro, adesso uno o anche altro, io la mangerò anche di un'altra di Alex, hahahaha no! oh, mamma mia, Alex è cattissimo, cattissimo come abbiamo, ma,lucio sempre uno gatto, fuori. Eh adesso la mangio No ma stia Mi sono cose molto E se quando wii riusciли sempre a fare in una buona Sì Quindi si non c'è un amore e abbiamo un amore di blu Quindi siamo trovar Sì e Giacomo Iniziamo a scoprire la cucina Adesso ragazzi chords Iniziamo a preparare Il nostro esistente E preparare Di speciale e Giacomo Scoprire Sì va verde? la guffetta? ragazzi scrivetemi nei commenti chi vi piace di più guffetta? oh poverino mezzo mezzo gatto boi apriamo però apriamo nel prossimo episodio intanto ragazzi noi con Alec vi salutiamo divertitevi con noi intanto noi andiamo a mangiare i gatto boi ciao a tutti